Ben trovati con il TgLIS di Telebari. Il sindaco Antonio De Caro e il direttore della ripartizione urbanistica del Comune hanno consegnato ufficialmente il cantiere del primo lotto di Costa Sud all'impresa aggiudicataria dell'appalto. Il Consiglio Comunale di Bari all'inizio della settimana aveva approvato il piano Costa Sud, ovvero la realizzazione di una serie di sei parchi costieri che riqualificheranno un'area di 216 ettari tra i quartieri Iapigia, Sant'Anna e San Giorgio. Un progetto che porta un radicale riassetto urbanistico della città con una riduzione notevole e una redistribuzione di spazi precedentemente edificabili dalla zona costiera interessata dai progetti ad alcune aree del quartiere Iapigia al momento non edificate. Il presidente della regione Puglia Michele Emiliano ha ricevuto un tapiro d'oro dall'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli. Il tapiro è stato consegnato presumibilmente per il racconto fatto da Emiliano sull'incontro con la sorella del boss Capriati che ci sarebbe stato anni fa e al quale, secondo la versione di Emiliano smentita da De Caro e poi rettificata dallo stesso governatore, avrebbe partecipato anche il sindaco di Bari Antonio De Caro. La consegna è avvenuta nella sede della presidenza della regione a Bari. A termine di una conferenza stampa i cronisti presenti non hanno potuto assistere. La scorsa settimana la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 33 anni di Genova, ritenuto presuntivamente responsabile di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Lo scorso 16 marzo, nel settore ospiti dello stadio San Nicola di Bari, durante l'incontro di calcio Bari-Sampdoria, avrebbe acceso e fatto esplodere un petardo causando il ferimento di un bambino di 9 anni, immediatamente soccorso dagli operatori del 118 presenti allo stadio e trasportato al Policlinico di Bari. Nei confronti dell'uomo il questore ha disposto il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per la durata di 6 anni con obbligo di firma. Oltre 70, il dato aggiornato, 150 fra allievi e docenti hanno accusato malesseri mentre si trovano in gita scolastica in Puglia, tra Fasano e Alberobello. Forti dolori addominali, vomito e mal di pancia è accaduto agli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale di Milazzo. Per diversi di loro sono intervenuti i medici del 118, mentre per qualcuno è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso. All'origine del malessere ci sarebbe il cibo servito a studenti e insegnanti, in particolare il pollo che faceva parte del menù. Alcuni ragazzi hanno fatto ricorso alle flebo per disintossicarsi. La scuola ha provveduto a informare dell'accaduto, le forze dell'ordine e i nas dei carabinieri che stanno compiendo verifiche nella struttura che ha servito il cibo ai ragazzi. L'arrivo del mese di aprile porterà con sé la partenza del primo dei due cantieri per la riqualificazione del lungomare San Cataldo, storico e caratteristico quartiere sulla penisola a nord del centro storico di Bari. Una zona che sarà totalmente rinnovata con aree verdi, una migliore fruizione della zona del faro, pedonalizzazioni, piste ciclabili e spiagge. Un intervento complessivo di 5 milioni e mezzo di euro con due progetti distinti, aggiudicati ad un unico appaltatore. I cantieri dovrebbero chiudersi nel 2025. L'assessore allo sport Pietro Petruzzelli ha consegnato un riconoscimento dell'amministrazione comunale agli atleti del circolo Canottieri Barion, protagonisti di un inizio stagione promettente. All'incontro saranno presenti gli allenatori Dario Bianchini, Alessandro Dironzo e Agostino Iurilli, sezione Canottaggio, oltre al presidente e al direttore sportivo del circolo Barion, Francesco Rossello e Carlo Quaranta. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di mercoledì, poco prima della mezzanotte, su una strada provinciale di Leporano, in provincia di Taranto. La vittima viaggiava a bordo di una Opel Astra guidata da un ventottenne rimasto gravemente ferito. L'auto, per causa in corso di accertamento, è finita fuoristrada andando a schiantarsi contro il muro di una villa, abbattendolo. Per il sedicenne non c'è stato nulla da fare. All'arrivo delle ambulanze del 118 era già morto. Il ventottenne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. Nove indagati, tra cui anche il Nardot Technical Center, dopo l'incidente mortale all'interno del centro prove della Porsche, costato la vita al driver Salentino Mattia Ottaviano il 21 febbraio scorso. Si tratta di un atto dovuto in vista dell'accertamento tecnico non ripetibile per ricostruire la dinamica dell'incidente, la cui notizia arriva proprio nel giorno in cui la Regione ha deciso di sospendere l'accordo di programma per il raddoppio delle piste, che è stato oggetto di enormi polemiche. Il 10 aprile verrà conferito l'incarico al perito incaricato di svolgere l'accertamento. Un uomo di 33 anni di barletta è stato arrestato dalla polizia perché considerato responsabile della rapina, avvenuta lo scorso 19 marzo ai danni di una tabaccheria del centro cittadino. Il colpo fu seguito da una collutazione tra il rapinatore armato di martello e il titolare dell'attività commerciale rimasto ferito al volto. Secondo quanto accertato dagli agenti del commissariato coordinati dalla procura di Trani, il 33enne, che ha precedenti penali, avrebbe fatto eruzione nel negozio di Corso Vittorio Emanuele, a volto coperto e con il martello avrebbe tentato di aprire la porta vicina al bancone per provare a raggiungere il registratore di cassa. Avrebbe poi minacciato il tabaccaio intimandoli con violenza di consegnargli i contanti, l'uomo però reagì provando a fermare il malvivente che con velocità lo colpì alla fronte per poi scappare. Un malore improvviso ha colpito un macchinista originario di Foggia al lavoro sul treno regionale Pescara-Sulmona. L'uomo, Antonio Dacci, 61 anni, residente a Termoli, non è sopravvissuto all'infarto, ma prima di morire ha compiuto un gesto eroico. È riuscito ad arrestare la corsa e a mettere in salvo tutti i passeggeri del treno. L'uomo è stato soccorso prima dal capotreno e dal personale di bordo, poi dal 118, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato inutile. E con il TgList è tutto, grazie per averci seguito, buon proseguimento.